Barbara Floridi a 5 Stelle, forse partirei dalla guerra perché oggi c'è un'intervista congiunta di Repubblica, Corriere e Sole 24 Ore a Zelensky, parto da lei Floridi, dice Zelensky tra le altre cose noi siamo come voi, mangiamo lo stesso pane, abbiamo gli stessi valori, se qualcuno ti entra in casa e cerca di ucciderti non puoi rimanere neutrale, voglio dire agli italiani stiamo combattendo per sopravvivere, aggiunge che il sostegno all'Ucraina nel conflitto è diciamo così tarato dalla disinformazione russa. Aiutare l'Ucraina è giusto ed è doveroso, lo si deve fare però anche sotto il profilo della diplomazia e verso i percorsi di pace, io mi pongo una domanda e la pongo a Giorgia Meloni e al governo, fino a che punto siamo disposti ad andare in questa unica direzione dell'appoggio armato? Mi spiego meglio, se dovessero chiederci le truppe, se dovessero chiederci i nostri ragazzi e le nostre ragazze da mandare in Ucraina, siamo decisi ad andare fino in fondo, fino a portare avanti questa terza guerra mondiale? Perché non c'è nessun percorso alternativo, significativo e forte, l'Europa è la grande assente, a mio avviso qui la voce dell'Europa, di una Europa che possa farsi sentire anche perché l'Europa è il campo di battaglia in realtà. All'interno di questa guerra, che ormai è una guerra geopolitica, noi siamo tutti le vittime, anche economicamente parlando, questa guerra oltre a essere una guerra che chiaramente colpisce non solo il popolo ucraino ma anche tutti noi, è una guerra che economicamente colpisce anche il nostro paese. E Floridia, come sappiamo, il 5 Stelle non hanno votato l'invio delle armi, le armi non hanno portato alla pace, però l'Ucraina ha resistito, se noi avessimo dato le armi sarebbero stati... E adesso bisogna continuare a iniziare, iniziare dei percorsi diversi anche. Domanda sul super bonus, perché dice Meloni, che verrà risistemato ora che capiremo magari come, perché peraltro appunto c'è un incontro a Palazzo Chigi con banche e costruttori per le modifiche apposte al super bonus, Meloni dice che grazie al super bonus era possibile ristrutturare una casa gratuitamente, ma questo gratuito per i pochi che ristrutturavano casa comportava un carico su ognuno di noi, i bambini disabili, senza detto, compresi di 2.000 euro a testa. Quindi ne vale la pena secondo lei? O contestate anche questa cifra, Floridia? Questa cifra è una menzogna, è veramente una vergogna, mi permetta, che un ministro come il ministro Giorgetti e anche la leader Meloni facciano questi conti un po' della serva. Perché? Perché intanto non dobbiamo parlare di 105 miliardi come spesa del super bonus, perché non è una spesa, è un investimento. Non è neanche di 105 miliardi, perché basta guardare sul sito che praticamente dimostra le cifre, parliamo di 70 miliardi, di cui 43 sono già rientrate nelle casse dello Stato e il 70% li abbiamo già utilizzati perché hanno contribuito a quell'extragettito, che Malan, che è intellettualmente onesto, sa bene, sono i 90 miliardi che sia Draghi che il governo di Giorgia Meloni ha utilizzato per i cittadini. Quindi questi 2.000 euro non esistono, non sono a carico dei cittadini, questo è un investimento, non è una spesa, anzi se c'è una spesa certa che i cittadini fanno sono 400 euro all'anno che spendiamo per le spese militari. Quella sì che è una spesa sulle spalle dei cittadini e che andrà ad aumentare. I 2.000 euro non esistono, è una falsità, è proprio una falsità. Le spese militari sono aumentate anche sotto il governo Conte e l'impegno a portare le spese per la difesa al 2% è un impegno che prendono formalmente, ma nel senso di concretamente, con tanto di firma, tutti i presidenti del Consiglio dal 2014. Qual leggo, dati Repubblica, valore dei lavori ammessi già conclusi a carico dello Stato sono 71,7 miliardi e già conclusi 54,7 miliardi. Non i 105 miliardi di cui parlava Giorgia Meloni che ha diviso per 60 milioni di italiani in una maniera davvero elementare e anche offensiva nei confronti dei cittadini. Comunque, 70 milioni il prezzo è giusto, secondo lei. Ma 43 miliardi? C'è un 49,3 miliardi, valore dei lavori, 65 miliardi. Dottoressa Bortone, 43 miliardi sono già rientrati, quindi facendo un conto ne è valsa la pena. Io devo chiudere. In meraviglia soltanto questa perplessità, adesso, dopo le regionali e dopo che ci sono atti parlamentari, compresa o di Fratelli d'Italia e anche di Forza Italia, una mozione nella quale si chiede di aumentare la cedibilità del credito, cioè tutto il contrario di quello che il vostro Consiglio dei Ministri è avvarato, mettetevi l'accordo in maggioranza. Fagli evitare il nostro impegno di spesa, e cioè il debito. Dopo la campagna elettorale. Ci vediamo subito dopo la pubblicità, domani vi aggiorneremo su eventuali modifiche. Grazie.